Il governo italiano ha notificato a Bruxelles la legge contro i prodotti sintetici, la carne sintetica, voluta dal Parlamento, dalle regioni, dai comuni trasversalmente, ma soprattutto dai cittadini italiani. Di fatto non si è detto forse abbastanza che quello che l'Italia ha adottato con divieto è di fatto una moratoria nell'attesa che l'Unione Europea prenda atto di due rischi. Il rischio sanitario, che è quello che FAO e MES hanno evidenziato, i 53 potenziali rischi per i quali serve modificare la procedura di approvazione di questi prodotti, meno novel food più farmaco, e la seconda cosa, il rischio che venga tagliato questo cordone ombelicale che lega la terra alla produzione di cibo e agli agricoltori è concentrato nei laboratori di poche multinazionali.